Ciao a tutti e benvenuti su Life in Travel. Oggi in questa breve guida vedremo come fare la richiesta per un visto Working Holiday per l'Australia. Questo visto vi permetterà di rimanere in Australia per un periodo di 12 mesi, viaggiando e lavorando, un visto quindi vacanza-lavoro. Oggi vedremo come fare la richiesta per questo visto attraverso il sito del Dipartimento dell'immigrazione australiana, del governo australiano. Quindi questa richiesta è una richiesta che verrà completata completamente online. Questa che vedete è la pagina principale del sito che è il sito www.immi.gov.au, il sito appunto del Dipartimento dell'immigrazione australiana. Per fare richiesta del visto Working Holiday basterà selezionare dal menu principale Visas, Immigration and Refugees, la voce Visitors. Selezionando questa voce vi si apre una serie di un elenco con tutti i visti che è possibile richiedere in qualità di appunto visitatori dell'Australia. Alla secondo posto, sotto il visto turistico, vi apparirà il visto Working Holiday. Selezionate quella voce ed entrerete nella sezione appunto relativa al visto vacanza-lavoro. Questo visto, vacanza-lavoro, è un visto che possono richiedere tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni, 30 anni compiuti, quindi fino al compimento del 31esimo anno di età. Ed è appunto un visto che vi permette di restare in Australia e lavorare in Australia, oltre a visitare questa magnifica terra, per mantenervi il viaggio. Entriamo quindi nella sezione Visa Options e all'interno della sezione Visa Options selezioniamo tra i due visti, quello 417 e 462, selezioniamo il 417 che è quello valido per noi cittadini italiani. In questa sezione vi viene spiegato un po' come funziona questo visto, quali sono le vostre credenziali per poter richiedere il visto e poi in fondo vi si dà anche il percorso per poter richiedere appunto per poter fare richiesta del visto stesso. Prima di andare oltre, vediamo un attimo di leggere quello che vi viene detto qua. Quindi il visto è valido per dei cittadini tra i 18 e i 30 anni e che non hanno ancora compiuto i 31 anni, quindi fino al trentesimo anno di età già compiuto, potete richiedere questo visto. Il visto vi consentirà di entrare in Australia nei 12 mesi successivi alla data in cui il visto vi viene garantito. Vi viene concesso di restare 12 mesi in Australia, di uscire e rientrare in Australia quante volte voi vorrete, comunque all'interno dei 12 mesi, quindi se voi uscirete dall'Australia per un certo periodo non potrete conteggiare quel certo periodo per restare più a lungo in Australia. Inoltre durante il vostro soggiorno in Australia potrete lavorare per al massimo 6 mesi con un unico datore di lavoro e potrete studiare fino a 4 mesi. Poi vi viene anche detto che potrete richiedere un secondo visto Working Holiday, ma questa è un'altra storia e magari vi spiegheremo come funziona un'altra volta. Andiamo quindi a selezionare la quinta voce qua in fondo, Applying for this visa, e anche qui entrerete in un'altra pagina in cui vi si danno ulteriori informazioni, vi si danno informazioni più tecniche su quello che vi serve per fare iniziare la vostra richiesta di visto. Fondamentalmente quello che vi serve è soltanto il vostro passaporto con nome, data di nascita, numero di passaporto, data di rilascio, data di scadenza, paese e autorità che ha rilasciato il passaporto. Entrando nella sezione fee and charge potrete vedere quanto costa il visto. Attualmente il visto costa 280 dollari australiani che sono all'incirca 220-230 euro. Per richiedere il primo visto Working Holiday si deve risiedere fuori dall'Australia ed essere al momento della richiesta fuori dall'Australia. Se invece si vuole richiedere già il secondo visto allora questo visto può essere richiesto sia dall'interno sia quindi dall'Australia che da fuori a Australia. Una volta che avete letto questa breve introduzione andate alla, cliccando su online applications andrete ad entrare nel cuore diciamo nel vivo della sezione del visto Working Holiday. Questa pagina introduttiva vi spiega che potrete salvare la vostra forma di richiesta del visto in ogni momento, ad ogni step che vi verrà presentato. Al termine della richiesta vi verrà inviata una mail sulla quale è presente un numero di riferimento chiamato TRN, Transaction Reference Number e quel numero vi può essere utile per andare poi a controllare a che punto è la verifica dei vostri documenti e quindi la vostra richiesta. Scendiamo in fondo la pagina e qui vedete che trovate il link per iniziare la vostra richiesta di visto. Clicchiamo quindi su online applications e se il sistema me lo concede, eccoci qua. Avete un'ulteriore pagina in cui scendendo troverete una tabella. All'interno di questa tabella trovate la relativa applicazione cioè il relativo visto quindi il visto Working Holiday, il primo visto Working Holiday, il secondo visto Working Holiday eccetera eccetera Non scorrete oltre, se volete chiedere il primo visto vi basta selezionare sulla prima riga il primo link quindi vi appare questa nuova finestra all'interno della quale avete un link che vi rimanda ai termini e condizioni della richiesta. Cliccate sopra, leggeteveli attentamente e una volta che li avete letti ritornate su questa scheda cliccando sul pulsante ho letto e accettato i termini e condizioni vi si apre una breve immagine, una breve schermata con delle informazioni iniziali del dipartimento dell'immigrazione australiano. Clicchiamo su next ed iniziamo a compilare la nostra forma la prima pagina, beh innanzitutto vediamo che qui all'inizio vi si dice che questa applicazione questa richiesta durerà, richiederà circa 15 minuti, tra i 15 e i 30 minuti per essere completata ok? La prima pagina è una pagina di introduzione appunto all'interno della quale dovrete inserire i vostri dati, nome, cognome, sesso, data di nascita, il vostro stato, la città di nascita, il paese di nascita, quello di residenza, i dati del vostro passaporto e qui se avete già un visto working holiday inserirlo qua dentro, se avete un visto sul vostro passaporto inseritelo qua dentro e poi alla fine, ma queste sono cose che in realtà per chi vuole andare per la prima volta in Australia non vi riguardano, poi qui all'interno di questa ultima sezione vi si chiede quando pensate di entrare in Australia con il visto che state per richiedere qui non è una data fissa e certa, potete anche non conoscere ancora la data di entrata in Australia mettete una data tendenziale quando credete di voler andare in Australia fate attenzione che questo ho visto una volta che vi viene garantito e vi viene garantito solitamente nel giro di una settimana da quando completate l'applicazione vi permette di entrare in Australia nell'arco di un anno quindi dopo che vi è stato garantito avrete un anno per entrare in Australia poi da quando, dal giorno in cui metterete piedi in Australia avete un anno, il visto scadrà un anno dopo che voi sarete entrati in Australia quindi per assurdo potreste anche richiedere il visto oggi 12 dicembre 2012 e entrare in Australia l'11 dicembre del 2013 dall'11 dicembre 2013 il visto vi sarà valido fino al 11 dicembre 2014 ok adesso lasciatemi compilare rapidamente questa forma e vedremo la pagina successiva una volta che avete compilato la prima pagina vi si chiede di confermare i dati inseriti voi chiaramente se avete inserito i dati corretti rileggeteli qua se avete inserito i dati corretti alla domanda se questi dati sono corretti questa qua sotto rispondete a sì e cliccate su successivo next in questa seconda pagina vi si chiede il vostro lavoro usuale quello che avete fatto, quello che state facendo vi si chiede in quale settore intendete lavorare in Australia o in quale settore cercate un lavoro qua c'è una serie di settori che potete inserire e vi si chiede anche qual è il vostro livello di studio dalla scuola media alla laurea una volta che avete compilato cliccate su next questa altra pagina richiede i vostri dati di residenza e i vostri dati telefonici oltre in fondo a richiedervi l'autorizzazione ad un'altra persona di ricevere comunicazioni riguardo alla vostra richiesta di visto quindi se volete potete anche mettere dati di un'altra persona altrimenti selezionate no all'ultima domanda qua in fondo lasciatemi compilare anche questo e poi siamo alla pagina successiva ok una volta compilata questa pagina mi si richiede una mail per poter comunicare io inserisco, selezionando la voce yes qua sopra inserisco una mail e nel menu a tendina successivo ricerco la sede locale del dipartimento australiano cioè Roma per eventuali comunicazioni da dare e da ricevere clicchiamo su next ed ora si passa alla pagina delle dichiarazioni di salute chiaramente queste sono personali comunque vi sono domande banali domande un po' meno banali dovete compilare questa dichiarazione e ancora una volta procedere sul next una volta terminato compilate questa sezione con cura perché al termine della compilazione potrebbe esservi richiesta una visita medica se avete dei problemi particolari se invece non avete problemi particolari non vi verrà assolutamente richiesto nulla di particolare conclusa la compilazione clicchiamo ancora una volta su next ancora una volta c'è una form da compilare piuttosto personale in cui vi si chiede se siete stati incriminati o se avete dei processi pendenti chiaramente qui ognuno dovrà rispondere come personalmente io compilo anche questa form e andiamo avanti andiamo oltre a vedere la form successiva questa form è una form di dichiarazione quindi leggetela attentamente selezionate chiaramente il sì quando avete capito quello che vi si dice se non lo capite chiaramente rileggetelo e cercate di capirlo selezionando di nuovo il sì se selezionerete no chiaramente non potrete andare avanti ok siamo quasi giunti al termine vi si presenta una pagina in cui vengono riassunti tutti i vostri dettagli rileggetelo attentamente rileggete tutti i dettagli controllate che siano corretti potete chiaramente cliccare su ogni sezione per ritornare alla pagina precedente e editare quello che avete dichiarato modificandolo una volta che avete fatto il controllo di tutti i dettagli quindi andiamo avanti a questo punto potete salvare la vostra applicazione io vi consiglio vivamente di farlo e una volta salvata potrete comunque decidere di fare la vostra richiesta immediatamente pagando quello che ci sarà da pagare vi viene dato un numero che è un numero identificativo della vostra richiesta quindi salvatevi questo numero e se dovrete poi richiedere in seguito il pagamento se vorrete effettuare in seguito il pagamento se dovrete richiedere in seguito delle ulteriori informazioni potete anche stampare la pagina c'è un pulsante apposito per stampare la pagina siamo in fondo qui chiaramente io non vado oltre perché il visto non lo voglio richiedere ma qua semplicemente dovrete inserire il tipo di pagamento che voi vorrete fare quindi carta di credito potete utilizzare una vision, una mastercard, American Express eccetera eccetera il visto dopo aver compilato il tutto e fatto richiesta il visto vi verrà garantito nel giro di una settimana solitamente passano anche meno anche due giorni affinché il visto vi venga garantito comunque in una settimana generalmente vi viene garantito il visto non preoccupatevi se passano 10-15 giorni se inizia a passare un mese iniziate a preoccuparvi iniziate a contattare magari il dipartimento perché potrebbero avere perso la vostra pratica da qualche parte nel lettere spero di essere stato chiaro che questa guida vi sia stata utile ci rivediamo su lifeintravel.it grazie a tutti grazie a tutti